Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo dell'inchiesta Pescara-Porto, una vicenda giudiziaria nella quale è finito anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che è indagato. La notizia è emersa ieri pomeriggio e questa mattina il governatore della regione Abruzzo ha indetto una conferenza da stampa per dire la sua e dire anche che si ritiene estraneo alla vicenda. Il servizio di Alfredo Primante. Mi dichiaro estraneo da tutti i fatti contestati. Così il presidente D'Alfonso apre la conferenza stampa seguita la notizia dell'inchiesta a suo carico e a carico di altre quattro persone per reati che a vario titolo comprendono abuso e falso. La vicenda è legata all'affare Pescara-Porto, i palazzi in costruzione sul lungomare sud di Pescara. Assieme al presidente D'Alfonso sono indagati l'avvocato Giuliano Milia, il dirigente del comune di Pescara Guido Dezio, l'ex segretario particolare di D'Alfonso Claudio Ruffini e il dirigente del genio civile Vittorio Di Biase. Sotto la lente di ingrandimento della magistratura c'è la concessione di Lizia per il progetto che sta nascendo a ridosso dell'area ex Cofa nei pressi del porto turistico Marina di Pescara. D'Alfonso, nell'incontro di questa mattina, ha espresso massima fiducia nel lavoro della magistratura e della polizia giudiziaria e non ha risparmiato qualche stoccata ai 5 Stelle che con la loro denuncia hanno dato il via all'indagine condotta dalla procura di Pescara e dalle PM a Narita Mantini. Merito alla poltrona di senatore a vita, ironizzato D'Alfonso parlando di quanto fatto per la mitigazione del rischio idraulico, D'Alfonso ha chiarito che il genio civile non c'entra nulla, che la competenza su quelle aree sarebbe in capo all'autorità di Bacino e a quella marittima, concludendo che al posto di un'inchiesta servirebbe un supplemento di conoscenza della materia da parte di che ha effettuato la denuncia, magari organizzando un convegno. Per me la sorgente di verità coincide con la documentalità che ho modo di rilevare, assumere e studiare e dopo aver studiato ho accettato ogni forma di riscontro e questo mi permette di dire che siamo davanti a un non fatto penale, siamo davanti al massimo ad una verosimiglianza che nulla ha a che fare con la verità. Su questo le notevoli competenze dell'autorità giudiziaria avranno modo di rilevare tutto in verità senza nessuna emotività da spingimento né ad opera di chi denuncia per fatti politici e neanche ad opera di alcune rappresentazioni della stampa che diciamo sono frettolose per mancanza di tempo. Lei è stato chiamato in Consiglio regionale a rispondere di questo, cosa dirà? Intanto osservate il mio viso e misurate le mie parole, sono contento ogni volta che vengo chiamato per concorrere alla verità e alla consapevolezza altrui sono contentissimo. Ma soprattutto vi dico che a volte su alcuni fatti oggetti di denuncia più che un'inchiesta serve un convegno. E a denunciare le presunte irregolarità nel progetto Pescara-Porto era stato il Movimento 5 Stelle del Comune di Pescara che oggi commenta così la notizia delle indagini nei confronti del Presidente della Regione. Francesca Romana Testi. Tutto è partito da una nostra interrogazione urgente lo scorso febbraio in cui appunto facendo leva sulle dichiarazioni dello stesso genio civile che ravvisava delle necessità di approfondimenti dovuti proprio al rischio di esondazione sull'area di Pescara-Porto chiedemmo per quale motivo in particolare in quell'occasione il Comune tardava così tanto a rispondere. Avevamo sollevato appunto delle indicazioni sul fatto che tutto il piano stralcio difesa alluvioni che la Regione stessa aveva emanato impediva al Comune, aveva impedito al Comune e impediva ad ogni privato di costruire in quell'area mentre ad un altro privato appunto alla Pescara-Porto concedeva la costruzione nonostante il rischio alluvione fosse molto elevato. C'è stata poi una risposta da parte dell'autorità di Bacino che riteneva che il permesso rilasciato nel 2012 non potesse essere in nessun modo sospeso perché il diritto del privato doveva essere garantito invece l'incolumità pubblica evidentemente no e il Genio Civile quindi ha poi dichiarato che avevano effettuato in qualche modo le verifiche del caso e che si poteva procedere. Noi siamo contenti che si cominci a cercare la verità su questo siamo contenti che per la prima volta dal 2012 cioè dal rilascio di questo permesso di costruire la magistratura appunto cominci ad analizzare queste carte e vorremmo scoprire la verità, la verità sulle tante troppe coincidenze che hanno caratterizzato il percorso di questo progetto momento di fibrillazione per diverse amministrazioni comunali in Abruzzo dopo le difficoltà di quella di Montesilvano e dopo le dimissioni presentate dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi è caduta la giunta di Silvi è caduta l'amministrazione del sindaco Francesco Comignani a determinare l'evento la firma di nove consiglieri comunali che hanno presentato contestualmente questa mattina le loro dimissioni vediamo cade l'amministrazione comunale di Silvi stamani nove consiglieri comunali hanno firmato contestualmente le loro dimissioni da componenti dell'assise civica essendo la metà più uno del consiglio queste firme fanno decadere il sindaco e tutta la giunta nei prossimi giorni sarà nominato il commissario prefettizio che traghetterà il comune fino alle elezioni comunali dell'anno prossimo è il culmine di una crisi esplosa dopo l'approvazione del piano regolatore contestata dal gruppo di maggioranza Silvi 2024 che subito dopo ha deciso di togliere il sostegno al sindaco Comignani con due consiglieri passati all'opposizione e il solo vice sindaco Partipilo rimasto a sostegno della maggioranza stamani a firmare sono stati i due consiglieri di Silvi 2024 del vecchio e Pelusi sei consiglieri di minoranza Cassone, Disidoro, Marini, De Marco, Mazzone e Valeriani la nona firma è stata quella del consigliere di maggioranza Arlini che è stata fatale per la giunta Comignani la cui esperienza si chiude dopo circa tre anni un'amministrazione priva di un progetto politico credibile è incapace anche di governare gli equilibri interni alla maggioranza stessa dichiarano due dimissionari Michele Cassone ed Enzo Disidoro del movimento civico Silvi Bellissima secondo del vecchio di Silvi 2024 da oggi comincia per quello che ci riguarda un percorso nuovo alternativo al centrodestra e all'attuale PD Comignani fuori città ha così commentato siamo in democrazia e in democrazia si prende atto di quelle che sono le regole del gioco quanto ad Arlini è stata una doccia fredda non me l'aspettavo la variante al PRG era un atto di rispetto verso tutti quei cittadini che erano stati presi in giro negli anni passati se a farmi cadere è stata l'approvazione della variante ne sono orgoglioso una mobilitazione per chiedere la liberazione immediata di Gabriele Del Grande il blogger arrestato in Turchia il 10 aprile scorso a Pescara 30 associazioni aderiscono alla Marcia per la Libertà liberare Gabriele con lui gli altri 150 giornalisti arrestati dallo Stato turco il caso di Gabriele Del Grande sequestrato in isolamento da 10 giorni scuote le coscienze del paese il giornalista si trovava in Turchia dal 10 aprile blogger e regista la sua attività è legata alla raccolta e documentazione di eventi riguardanti morti e naufragi di migranti nel Mediterraneo in Turchia è stato fermato al confine di Atai trasferito poi a Mugla ha potuto mettersi in contatto telefonicamente con la propria compagna solo 8 giorni dopo il fermo non sono note le cause del suo arresto e la comunità italiana si mobilita per chiedere la sua liberazione a Pescara è stata indetta una marcia alla quale hanno aderito più di 30 associazioni togliere la libertà a una persona significa toglierla a tutti noi quindi chiediamo con forza che si attivino tutti gli strumenti internazionali perché Gabriele venga immediatamente riportato alla libertà riportato in Italia noi quindi abbiamo organizzato questo presidio in cui saremo presenti numerosi e abbiamo lanciato questo appello a cui hanno risposto tutte le associazioni partiti della nostra città e anche a livello regionale quindi il presidio si svolgerà oggi pomeriggio alle 17.30 a Piazza Sacro Cuore le adessioni sono moltissime certamente noi abbiamo il compito di sostenere le libertà individuali e collettive delle persone e dei popoli quella contro il project financing per il nuovo ospedale di Chieti è una battaglia campale per il gruppo di Forza Italia che si prepara anche in vista del prossimo consiglio comunale straordinario che a breve sarà convocato e a cui parteciperanno i vertici della regione intanto un documento arrivato ai vertici della ASL boccerebbe senza appello il progetto della Maltauro C'è un documento del 14 aprile 2017 firmato dal responsabile unico del procedimento per il project financing del nuovo ospedale di Chieti che mette una pietra tombale sull'iniziativa così come presentata dal gruppo Maltauro a sostenerlo è il gruppo di Forza Italia di Chieti capitanato dal consigliere regionale Mauro Febbo e dal deputato Fabrizio Di Stefano 5 paginette sottoscritte dall'ingegner Filippo Manci che bocciano l'opera che prevede nuove costruzioni, demolizioni e ristrutturazioni all'interno del nosocomio clinicizzato oltre alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali nella relazione di sintesi arrivata sul tavolo dei vertici della ASL il RUP mette in evidenza come allo stato attuale della programmazione sanitaria non ancora perfettamente definita per l'individuazione degli ospedali di secondo e di primo livello sia altamente probabile il ricorso a varianti di progetto con il rischio quindi che lo stesso non si attagli più alle esigenze sanitarie della ASL in più Manci sottolinea la mancata assunzione del rischio di impresa da parte di Maltauro dando assieme ad altre motivazioni valutazione non positiva della proposta di project financing Forza Italia ha invitato anche la magistratura ad accendere un faro sull'iter di questo progetto Prima c'era una relazione che era la base per cui si è cominciato a ragionare hanno cominciato a ragionare sulla demolizione e ricostruzione cioè c'era il problema del sismico statico e dell'antigendio i due problemi statico e dell'angendio sono stati risolti negli anni rimane quello sismico ma quello sismico riguarda tutta la città di Chiedi noi chiediamo che questo progetto si fermi che venga posta a fine a questa carella e che si ragioni seriamente di intervenire una volta per tutte solo su quella parte che ha problemi sismici con la nuova ingegneria antisismica A fine mese si svolgeranno le primarie del PD il segretario cittadino Moreno di Pietrantonio spiega ai nostri microfoni come il partito si sta organizzando a Pescara Il PD continua il fermento in vista del voto per le primarie tra l'altro lunedì arriverà il ministro Maria Pescara Sì, ormai è organizzata la struttura per le primarie ci sono nove punti in tutta la città dove poter votare per le primarie possono votare tutti i cittadini le primarie sono aperte i cittadini presentando alla scheda elettorale un documento dicevo, sarà una grande festa di democrazia è l'unico partito che appunto oggi nel nostro paese elegge il proprio segretario con le primarie nell'ambito appunto delle iniziative per le primarie lunedì avremo il ministro per la prima volta a Pescara Marianna Madia all'auditorio Petruzzi in via delle Caserme alle ore 17 quindi invito tutti a partecipare per un incontro insieme al presidente della regione al sindaco di Pescara, al segretario del partito regionale Rapino e la segreteria appunto cittadina Vogliamo ricordare le modalità di voto? Ma per votare ci sono tre candidati basta mettere un segno sopra il nome che si sceglie molto semplici i candidati sono appunto Matteo Renzi, Michele Emiliano e il ministro Orlando In vista delle imminenti elezioni comunali sarà Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia il candidato sindaco del centrodestra Dopo 15 anni all'Aquila la coalizione di centrodestra torna a riunirsi attorno a un candidato sindaco unitario Pierluigi Biondi Tutti i coordinatori dei partiti dello schieramento e rappresentanti delle realtà civiche che aderiscono a un comune progetto politico-amministrativo si sono stretti attorno a Biondi che in conferenza stampa Palazzo Fibioni ha parlato di un grande sogno che accomuna ognuno dei presenti ricostruire l'Aquila e renderla di nuovo una città accogliente, sorridente e inclusiva ci sono tutti nella sala Rivera dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia partito di Biondi, Etel, Sigismondi a Nazario Pagano coordinatore regionale di Forza Italia e ancora noi con Salvini e Udc e tra il pubblico non poteva mancare l'onorevole forzista Fabrizio Di Stefano già a Enne come lo stesso ex sindaco di Villa Sant'Anne La necessità di andare tutti insieme perché era quello che reclamava l'elettorato poi uno non dovrebbe mai parlare di se stesso penso forse abbia giocato un ruolo determinante la necessità di avere una persona che si fosse già misurata con l'amministrazione della cosa pubblica in tempo di guerra quindi dopo il terremoto ma che fosse anche sufficientemente giovane per rappresentare l'istanza di cambiamento che proviene dalla città Che cosa sogna Pierluigi Biondi per l'Aquila la sua città? In una parola una città accogliente dove ognuno possa sentirsi a casa dove non ci siano esclusi e dove si ritrovi la gioia di vivere l'Aquila Che cosa accadrà in questi due mesi che la separano dal voto dell'11 giugno? Parleremo con un sacco di persone ascolteremo tanti problemi proporremo le nostre soluzioni gireremo tanto, ci confronteremo e cercheremo di offrire un'alternativa possibile a questa città Che cosa vuol dire essere un granello? Significa inceppare un meccanismo perverso e vizioso che in questa città sembra ineluttabile invece ci sono tante donne e tanti uomini che si vogliono mettere a disposizione della città per invertire la rotta per bloccare il meccanismo e innescarne uno nuovo virtuoso Una testimonianza diretta della strage di Capaci quella in cui persero la vita Giovanni Falcone la moglie e gli uomini della scorta Giuseppe Costanza, autista del magistrato è sopravvissuto miracolosamente ed ora incontra i giovani studenti per ricordare l'importanza della lotta alla criminalità e questa mattina ha parlato agli studenti dell'istituto comprensivo di Silvi Marina 23 maggio 1992, sono le 17.56 una carica di tritolo di 572 kg esplode allo svincolo di Capaci a Palermo è il tragico attentato che portò alla morte del magistrato Giovanni Falcone di sua moglie, il giudice Francesca Morvillo e anche degli uomini della scorta che viaggiavano sull'auto davanti a quella di Falcone feriti altri agenti che seguivano le due auto tra i sopravvissuti però c'è anche l'autista di Giovanni Falcone si tratta di Giuseppe Costanza che al momento della deflagrazione si trovava in auto con i due coniogi ma nel sedile posteriore perché alla guida c'era il magistrato sono passati 25 anni da allora da quando la mafia colpì così violentemente un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita alla legalità e alla lotta ininterrotta della criminalità Giuseppe Costanza di quel giorno ha ricordi offuscati perché la sua mente, racconta, ha bloccato quel dolore ma non il desiderio di toccare il cuore e la mente degli uomini del domani e così gira l'Italia per incontrare i ragazzi nelle scuole e portare il suo messaggio questa mattina a Silvi Centinaia i giovani intenti ad ascoltare la sua testimonianza un messaggio principalmente sulla legalità raccontando i fatti cioè una testimonianza reale questa persona che ha dato intanto la sua libertà perché era un carcerato non viveva la sua libertà e poi ha dato la vita per noi ma io osservo dei ragazzi intanto un'attenzione notevole e poi alla fine le domande che mi pongono sono così meravigliose, così grandi che io mi stupisco che dei ragazzini possano darmi, pormi queste domande il titolo lascia pensare uno stato di abbandono questa è la storia delle memorie di chi è sopravvissuto alla strage che ha coinvolto Falcone e allora nell'ascoltare quelle parole nel mettere per iscritto qual è l'idea e soprattutto l'emozione che si prova? è stata una grande emozione prima di tutto perché è stata la mia prima è la mia prima opera e poi perché viene raccontato con uno sopravvissuto di un periodo tra l'altro così drammatico, confulso per lo Stato è stata un'esperienza innanzitutto personale umana straordinaria un servitore dello Stato che è stato incredibilmente abbandonato ignorato per tanti anni dalle stesse istituzioni che aveva servito per cui è incomprensibile come certe cose succedono un incendio nel corso della notte è divampato a Tornareccio in provincia di Chieti nell'area turistica di Monte Pallano non si esclude la pista dolosa sarebbe stato un fulmine ma c'è anche chi sospette il dolo a scatenare l'incendio che ha divorato la notte di venerdì l'area turistica a Monte Pallano nel comune di Tornareccio le fiamme si sarebbero scatenate alle 3 ma l'allarme è stato dato solo alle 6 del mattino da un residente che dal paese ha visto una colonna di fumo alzarsi sull'area non ci è rimasto nulla dichiara sconcertato il sindaco Remo Fioriti al Tg Max è andato tutto bruciato non si trovano neppure termosifoni in alluminio resta solo qualche canalina e del rame l'area attrezzata con due edifici separati 100 metri quadrati coperti altrettanto a verde per il centrovisite di proprietà della sovrintendenza archeologica e la parte ristoro della comunità montana Sangro è andata completamente distrutta disperate Ivana, Patrizia e Pina che con la cooperativa Gaia hanno in gestione la struttura da circa 20 anni tanto lavoro è andato letteralmente in fumo adesso non resta che fare i conti per elaborare una prima stima dei danni di sicuro commenta il sindaco Fioriti la stagione estiva salta e con essa tutto il cartellone delle visite guidate ed ora apriamo la pagina dello sport seduta a mattutina per il Pescara per preparare il match di lunedì sera contro la Roma nel corso della seduta si è registrato uno stop di natura precauzionale per l'attaccante Gianluca Caprari a causa di una lombalgia le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore in particolare in vista della seduta di rifinitura di domani mattina intanto in difesa ci sarà spazio al centro per Bovo e Coda perché non sono ancora perfette le condizioni di Campagnaro e Stendardo tornerà al centro dell'attacco Baebec sicuro di un posto anche ben lì sulla destra tra i pali ci sarà di nuovo Vincenzo Fiorillo titolare in questo scorcio finale di stagione e col portiere originario di Genova abbiamo parlato di presente ma soprattutto di futuro ascoltiamolo al microfono di Paolo Renzetti da quando sei tornato in campo in queste ultime giornate hai regalato sempre buone prestazioni? ma io innanzitutto è una grande gioia per me giocare in Serie A perché non ho un grosso bagaglio di questa categoria perciò cerco di fare il massimo per convincere il mister e ripagarlo della fiducia provare a fare quello che mi chiede mancano ancora delle partite e ognuno dovrà trovare dentro di sé gli stimoli perché possono venire fuori anche delle buone prestazioni prossimo anno in Serie B si ripartirà con Zeman sulla panchina del Pescara in questo Pescara che giocherà il prossimo anno nel torneo cadetto ci sarà Vincenzo Fiorillo a difesa dei pali della porta del Pescara? beh io me lo auguro cercherò con queste partite come ho sempre fatto di guadagnarmelo sul campo in Serie B in due anni qua ho avuto la fortuna di disputare due finali spetterà al mister questa decisione io me lo auguro e sei pronto a essere il capitano del Pescara l'anno prossimo? beh sarebbe una cosa che mi rende mi rendo orgoglioso perché comunque anche quando quando non ho giocato ho sempre cercato di essere un esempio positivo e questo i miei compagni me l'hanno riconosciuto anche nei momenti abbastanza abbastanza difficili fare il capitano sarebbe veramente una cosa che mi mi fare mi riempirebbe d'orgoglio però credo di di potermelo permettere magari per per quello che ho costruito anche all'interno dello spogliatoio in questi anni però ecco sarà una decisione che anche questa aspetterà al mister con la Roma sulla carta è un quasi testa coda una gara quasi proibitiva sì è vero che sono gare proibitive perché se no non ci sarebbe questo distacco di punti ma io credo che più che al risultato noi dovremmo iniziare a buttare dentro delle nozioni delle interpretazioni della gara che ci chiede l'allenatore secondo me iniziando a pensare un po' più alla prestazione anche in ottica futura diciamo di quello che è il suo credo calcistico delle sue idee magari dopo possono arrivare anche dei risultati secondo me è giusto anche in campo iniziare a buttare quelle che sono le basi poi per l'anno prossimo e allenamento al mattino anche per la Roma buone notizie per l'allenatore Spalletti che dopo Fazio ritrova a pieno regime anche Emerson Palmieri e Rudiger l'allenatore toscano pensa alla difesa a quattro davanti a Scesni ci saranno Rudiger Fazio Manolas e Mario Rui in mezzo Strotman e De Rossi e poi in tre dietro la prima punta Dzeko ovvero Salah Naingolan e Perotti peraltro in occasione di tutti gli eventi sportivi di questo fine settimana il CONI ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare il ciclista Michele Scarponi deceduto stamani sulle strade del suo paese d'origine a Filottrano in provincia di Ancona dopo essere stato investito mentre faceva allenamento scendiamo in Lega Pro seduta di rifinitura stamani per il Teramo che domani sarà in campo all'Elvia Recina contro la Maceratese dirigerà Bertani di Pisa il tecnico Ugolotti dovrebbe optare per le due punte Barbuti e Sanzovini a destra Spighi favorito su Petrella per il resto dovrebbe essere confermata la squadra vista nell'ultimo periodo nel pregare Ugolotti parla anche della situazione che sta vivendo la Maceratese e la prossima settimana potrebbero arrivare un paio di punti di penalizzazione per la squadra marchigiana e delle speranze di salvezza diretta del Teramo le ultime tre sfide perché siamo convinti che possano bastare questo è il messaggio che la squadra ha espresso nelle varie interviste che ho visto durante la settimana ma questo era logico è normale che abbiamo dovuto metabolizzare un pochettino di delusione perché penso che un pochettino non dico che c'eravamo illusi però quattro partite dieci punti due partite in casa però la realtà è questa probabilmente questo è un anno che dobbiamo soffrire fino alla fine però siamo pronti a soffrire e beh ci siamo perché le partite cominciano a finire di conseguenza ci sono tanti scontri diretti e ci siamo messi in una situazione che dobbiamo pensare a noi stessi e fare una buona partita prima di tutto perché comunque sia il destino di questa squadra nell'arco del campionato regolare però ci potrebbero essere delle appendici noi dobbiamo prima di tutto guardare le prestazioni guardare quello che stiamo proponendo cercare di migliorare dove abbiamo dei difetti perché c'è ancora tempo c'è sempre tempo per migliorare no non cambieremo niente abbiamo provato all'inizio della settimana avevo intenzione di poter cambiare però ormai questa squadra ha trovato determinati equilibri poi onestamente ho riguardato attentamente la partita che abbiamo giocato anche l'ultima che abbiamo giocato con il Forlì e devo essere sincero sicuramente non siamo stati brillanti però una squadra che in casa gioca contro una diretta concorrente perché non è che dobbiamo vergognarci a dire che abbiamo giocato contro una diretta concorrente se quest'anno questo è il nostro destino e abbiamo avuto 12 calci d'angoli a favore abbiamo avuto mi sembra su 90 minuti abbiamo avuto quasi 70 minuti il possesso palla beh io penso che quello è un punto di partenza contro una squadra onestamente che è venuta e lo sapevamo che quando noi troviamo squadre che vengono e si chiudono possiamo trovare difficoltà però nonostante tutto io mi sono arrabbiato non arrabbiato ho solo rimproverato un pochettino ai ragazzi il discorso di 12 calci d'angolo perché una squadra che riesce a prendere 12 calci d'angolo deve con le qualità che abbiamo riuscire a essere più pericolosa ma guarda io l'ho vissuta in queste situazioni che stanno vivendo la maceratese perché dopo 15 anni anzi 17 anni 18 anni di Lega Pro ne ho viste di tutti i colori ho visto cambi di presidenza ho visto pagamenti non avvenuti però poi ho visto sempre la mia squadra che entrava in campo e che mordeva le caviglie agli avversari perché? perché poi c'è la dignità c'è una televisione c'è i media c'è tutto e di conseguenza i problemi li lasci fuori dal campo durante la settimana diventa difficile la gestione perché quando arrivi il martedì al campo non parli di tattica ma parli di avrò i soldi per pagare lo stipendio avrò i soldi per pagarmi l'affitto avrò i soldi per comprare non so i ragazzi al giorno d'oggi hanno la macchina hanno quello perciò quelli sono i problemi settimanali poi quando entri in campo la domenica ti discordi però torna a ripetere loro hanno i loro problemi noi abbiamo i nostri problemi nel senso che noi dobbiamo salvare questa categoria che è la causa più importante e sono 19 i giocatori convocati dal tecnico Ugo Lotti per la trasferta di Macerata mancano Camilleri imparato e anche l'attaccante Tempesti vediamo la schermata della giornata di Lega Pro che si svilupperà tra domani e lunedì le partite sono le seguenti San Benedettese Sant'Arcangelo Ferral Pisarò Reggiana Gubbio Venezia Maceratese Teramo Fano Modena Forlì Bassano Mantua Lumezzane e poi lunedì Albinolef Pordenone Padova Ancona e Parma sul Tirol e ora la Serie D terza e ultima giornata per il campionato appunto di Serie D tornano a tenere banco i problemi extracampo all'Aquila al termine di una settimana piuttosto difficile che fa da preludio al test di domani con il San Teodoro nell'altro raggruppamento il Gironef spicca il derby del Bonolis tra San Nicolò e Vastese Una nuova settimana di tensione all'Aquila squadra e società non riescono a trovare pace neanche nei giorni immediatamente seguenti le festività pasquali ha fatto specie il ritorno lampo dei sei giocatori ammutinati che avevano lasciato la squadra qualche settimana fa alla base di ciò ci sarebbe il mancato rispetto da parte della società delle transazioni sottoscritte al momento della decisione dei giocatori di lasciare l'Aquila appena ieri l'intero staff medico Rosso Blu si è dimesso dall'incarico vicende che fanno male all'Aquila Calcio intanto dal punto di vista dell'immagine il tutto mentre sul campo la squadra sta onorando benissimo gli impegni e anzi con la gestione Battistini nonostante le diverse defezioni la squadra ha ripreso a marciare bene ed è in piena corsa per un posto playoff domani pomeriggio l'Aquila riceverà il San Teodoro ex squadra del centrocampista Rosso Blu La compagine sarda è invischiata nella lotta per la salvezza che quasi certamente passerà per il playout obiettivo tagliato con ampio anticipo quello della salvezza per l'Avezzano che senza gli squalificati Leto e Pollino giocherà sul campo della capolista Arzachena partita molto più delicata per la compagine sarda che deve respingere le rimonte di Rieti e Monterosi che sono dietro ad un punto Avezzano che un mese fa già fece uno sgambetto a domicilio all'allora capolista Rieti nel girone F spicca il confronto tutto abruzzese tra San Nicolò e Vastese in programma al Bonalist di Teramo una partita decisamente importante in chiave playoff spareggi che il San Nicolò è praticamente certo di disputare ma vuole farlo attraverso la migliore posizione possibile il secondo posto ancora alla portata nonostante l'inopinato stop a domicilio col Castelfidardo il Matelica ha tre punti in più e per la squadra di Epifani c'è l'obbligo di vincere le restanti tre gare e sperare nei passi farsi altrui una bella notizia è stata la due giorni trascorsa a Vinovo dal difensore classe 2000 Riccardo Di Stefano che ha svolto un periodo di prova allenandosi con la primavera della Juventus dall'altra parte anche la Vastese ha bisogno di vincere e sperare in passi falsi altrui per centrare il quinto posto e dunque i playoff anche se le recenti scadenti prestazioni fanno volgere lo sguardo della dirigenza al prossimo anno quando si dovrebbe ripartire con un nuovo allenatore salutando così Massimiliano Favo al Mariani Pavone invece sarà gara passerella per Pineto e Monticelli squadre già salve i marchigiani con una vittoria potrebbero addirittura strizzare l'occhio al quinto posto finisce qui anche la terza edizione del TG6 il nostro notiziario torna lunedì alle ore 14 intanto vi ricordo gli appuntamenti principali della domenica calcistica su TV6 dalle 14.55 circa diretta stadio per seguire gli sviluppi del campionato di Serie D e della partita di Lega Pro del Teramo che sarà di scena a Macerata e poi in serata a partire dalle 19.30 l'Abruzzo del pallone con la conduzione di Jacopo Forcella per vedere servizi interviste per tutti i commenti nell'immediato post partita è tutto grazie per l'attenzione buonanotte e buona domenica grazie per la visione grazie per la visione